La chiamano malattia invisibile, eppure il suo dolore è tangibile, costante e invalidante. La fibromialgia colpisce oggi 30.000 persone nelle Marche e circa 2 milioni di pazienti in Italia, ma le cifre sono verosimilmente più alte, considerando che si tratta di una patologia difficilmente riconoscibile e diagnosticabile. Dalla sua costituzione, l'associazione peserese Leali di Hauser si batte per far luce su chi soffre di fibromialgia e in tal senso, assieme all'AST Pesaro Urbino, ha deciso di organizzare un convegno dedicato il 16 novembre, a partire dalle 9, nel presidio sanitario di Galantana. Il convegno si intitola Fibromialgia in famiglia per sottolineare l'impatto complesso che la patologia ha tanto sul fibromialgico quanto sui suoi affetti e relazioni. È doveroso cercare di capire cosa si può fare per comunicare anche quelli che sono le nostre esigenze da fibromialgici, ma dare la possibilità soprattutto al familiare di esternare la sua perplessità, la sua difficoltà nel dialogare con lo stesso fibromialgico. Assieme a Roberta Baldi interverranno sul tema esperti come i dottori Samuele Bedette e Elisabetta Esposto, oltre al contributo fondamentale di figure come quella del reumatologo Anna Maria Di Carlo e dello psicoterapeuta Luca Rizzi. Perché chi ha la fibromialgia e chi ha in casa qualcuno con la fibromialgia sono due persone che debbono elaborare un lutto, vediamola un po' così. Tutte e due hanno perso qualcosa e tutte e due devono recuperare qualcosa. In questo caso sicuramente la comunicazione, a un certo punto finisce perché si è esasperati, si è esasperati dal dolore, dalle difficoltà e quindi la possibilità di poter parlare con esperti sicuramente aiuterà a comprendere la patologia e aiuterà a capire al familiare come interagire col paziente fibromialgico.